Buongiorno dal Tg della mobilità, cantieri in città, al via da oggi lavori di manutenzione lungo i binari di Viale delle Milizie, da Piazza delle Cinque Giornate a Via Barletta, sino al 7 agosto i tram della linea 19 saranno sostituiti da bus navetta tra Valle Giulia e Piazza Risorgimento, mentre le linee 70, 180 F, 490, 590, 913, 990 e 4 linee di bus notturne sono deviate su percorsi alternativi. Lavori anche a Casalotti per la manutenzione straordinaria su via di Santa Seconda. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la linea di bus 028 sarà deviata su via Bocea saltando 15 fermate. Prevista una deviazione anche per le linee 905 e N904 e il cantiere è il previsto fino al 2 ottobre. È tutto per questa edizione del Tg della mobilità.